Ma prima di tutto credo che è un buon allenatore, perché purtroppo dopo un anno e mezzo le cose sono andato un po', non dico male, ma i risultati non sono stati quelli nella seconda stagione come erano aspettati dalla società. Ma Carlo è una brava persona, sono anche amico suo oggi, ma lui ha una tranquillità incredibile, perché ho visto, non dico mille allenatori, ma ho visto tanti, tutti più o meno bravi, con le loro caratteristiche tecniche, tattiche, ma lui era sempre tranquillo. Anche nei momenti difficili non ha perso mai la sua tranquillità. Mi ricordo quando toccava a me a dirlo che purtroppo i suoi tempi bavaresi sono finiti, quasi quasi mi è venuto a piangere. E poi lui ha capito e si è alzato dalla sua sedia, mi ha abbracciato e ha detto, va bene, non sei più il mio boss, ma rimani il mio amico. Questo e poi mi sono venuto proprio a piangere perché è stato un discorso che non mi aspettavo, perché mi aspettavo che un po' arrabbiato per quello che deve andare via, ma è anche la dimostrazione che è un grande uomo. Grazie a tutti.